Il cambiamento climatico influisce anche sulla raccolta del tartufo. La Regione Marca ha infatti ratificato il nuovo calendario di raccolta del prezioso tubero che per il 2024-2025 sarà circoscritta al periodo compreso fra il 1 ottobre e il 15 gennaio. Si vuole dunque salvaguardare in particolare il periodo di maturazione del tartufo bianco pregiato escludendo del tutto il mese di settembre dalle periodo di raccolta. Portiamo l'apertura della ricerca al 1 ottobre a seguito dei cambiamenti climatici e dello spostamento delle stagioni e anticipiamo la chiusura al 15 gennaio. Una modifica voluta dal tavolo tecnico del tartufo e quindi concertata con tutti i portatori di interesse che girano intorno a questo grande oro della terra. Sarà un prodotto che nella nostra Regione si trova 365 giorni all'anno e soprattutto in tutto il territorio regionale.